Allora parliamo dei... di cosa stiamo parlando? Mia di scazzo! Di scazzo... Quale è quella persona con i dread? A me quelle con i dread non c'è via di un cani scopo La mangio non lo so Stanno proprio Testimonianze... I dread anche scopo Io ce li ho! Sono i cani, i cani con i dread I cani con i dread I cani con i dread Sai i cani dread? Anche perché il pelo se non lo lavi E' come il pesce, dopo tre giorni A me si puzza Nel tuo pesce non ci interessa Oh sono tutti così ma a me non devo abbastanza Essendo noi dei vatusti Capisci che? Ma vedi che? Ecco basta di tutto che non posso muovere La telecamera Parliamo di cosa è serio Cosa dobbiamo studiare oggi? Io ho statistica No, statistica do l'anno prossimo Ah che è facile invece Due pagine Va bene Io ci... Aspetta lo spiego a lui non do l'esame Quindi sono bravo Cosa dobbiamo studiare i risultati Architettura Mi piace Cosa e... Cagò Come si... Come si dice? Così? Cagò 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 Cagarella Cagò 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 Minervino Minervine 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 Stai sull'alto pieno Ne murge Cagò 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 Lavello Lavello Per sentito dire Lavello Minervino è sopra Lavello è lì Pensa che c'è anche il faro a Minervino Perché c'è il mare? No È a tipo 70 km dal mare Minervino però c'è il faro Una volta c'era il mare allora Si è ritirato Una volta però Si è ritirato? Si è ritirato? Non è poi in serie Nessuno Ma non è vero Farei scogli da sola però Uè ma C'è boh Bene me Questa è la loro diversità E studi eh Ci sta feci Ci sta deici Vabbè ragazzi Italia 1 Ci vediamo Ciao Youtube Ciao